Nessuna particolare sorpresa dalle sentenze del Collegio di Garanzia del CONI emesse nella tarda serata di ieri dopo una giornata dedicata alle istruttorie. Le decisioni della Covisoc sono stati quasi interamente confermate dal CONI. Bocciati i ricorsi di 5 società su 6, confermate quindi le esclusioni del Chievo dalla Serie B e del Novara, Carpi, San Benedettese e Casertana dalla Lega Pro. L'unica squadra ad essere riabilitata è stata la Paganese, la cui situazione già dal principio appariva meno grave delle altre. Campani salvi in extremis, così come avvenne qualche mese fa sul campo nel play-out contro il Bisceie. Mentre c'è anche un altro precedente amministrativo, già 5 anni fa la Paganese, esclusa dalla Covisoc, fu poi riabilitata successivamente dal Tar del Lazio. Il Chievo si è affrettato a dichiarare come la battaglia legale non finisca qui, anzi è destinata a proseguire nelle aule del Tar del Lazio. In casi estremi, come quelli di una possibile vittoria dei veronesi davanti all'organo appena citato, gli scaligeri potrebbero essere riammessi in sovrannumero. Ma la favola del Chievo, un piccolo quartiere di Verona che negli anni d'oro toccò i vertici della Serie A sotto la guida di Del Neri, è effettivamente finita. Le esclusioni appena descritte sono state ratificate questa mattina intorno alle 11 dal Consiglio federale. Ora si procederà al ripescaggio del Cosenza, ultima squadra a retrocedere dalla B alla C. Circa la composizione dei gironi, che avverrà ad ore, si vocifera concretamente di un inserimento di Pescara e Viterbese nel girone B. Mentre nel girone C, nel quale dovrebbe essere inserito il campo basso, ci dovrebbe essere posto anche per il Picerno come squadra che andrebbe poi a sostituire il Gozzano, società rinunciante alla Lega Pro. In ballo con il Picerno c'è anche il Messina, ma i primi dovrebbero essere favoriti. A tornare in Lega Pro per il tramite del ripescaggio dovrebbero essere Lucchese, Latina, Siena, Andrea ed una fra Fano e Pistoiese. Tutto questo mentre il campo basso si allena con regolarità agli ordini di Cudini. La società sta per sferrare gli ultimi corpi di mercato, quelli che dovrebbero conferire un tocco in più all'organico. Si sta trattando con più di un attaccante, il profilo ricercato è quello di una prima punta. Si parla di Emma Usso, ma il nome nuovo e di spicco è certamente quello di Emanuele Santaniello, che ha vestito lo scorso anno la maglia dell'Avellino e che è tuttora in ritiro con gli Irpini, in quel di Roccaraso. I contatti ci sono stati e la società starebbe attendendo una risposta, ma Santaniello non è l'unico nome nella testa di De Angelis. Lo stesso patron Mario Gesuè pare voglia compiere un colpo in attacco, ma è il tutto senza troppa fretta. Fumata nera per Pietro Cogliati. Le parti si sono confrontate e pare ci sia una differenza di carattere economico a impedire un accordo che fino a ieri appariva fattibile. Cogliati dunque si separa dal Campobasso dopo tre anni vissuti sicuramente ad ottimi livelli e con un carnet di marcature che ha superato i 30 gol. Il DS dunque andrà alla ricerca di due punte. Entro qualche giorno il Campobasso quindi verrà puntellato con due attaccanti richiesti secondo le caratteristiche di Cudini. Intanto per domenica a Selvapiana alle ore 16.30 è previsto un amichevole contro l'Avellino di Pietro Braia. La prima amichevole del non troppo nuovo Campobasso destinato al professionismo e contro una formazione che sarà fra le avversarie del girone nel quale verranno inseriti i rosso-blu. La prima amichevole del non troppo nuovo Campobasso destinato al professionista di Cudini.